Sono Renata, ho 60 anni e vengo da Iglesias. Ho avuto la piorrea, quindi in Sardegna avevo fatto un intervento, mi avevano fatto dei monconi ai miei denti, avevano montato una protesi, però ho avuto dei problemi, quindi non ci ho pensato due volte a contattarvi. Ho conosciuto la vostra clinica su Facebook, ho superato le mie paure perché volevo cambiare la mia vita. Mi sentivo sempre in imbarazzo. Le persone mi dicevano, mi facevano notare come io non ridessi mai. Ho sorriso ma non riso perché mi vergognavano, mi piacevano i denti che avevo. Adesso forse riesco a sorridere di nuovo. Dopo due o tre giorni di estrazione mi hanno fatto la prima prova delle arcate e già quella mi andava benissimo. Mi sembrava di avere dei denti miei. Per i definitivi ho fatto la linea superior sopra e sotto e sono felicissima perché io non mi rendo conto di avere la bocca bionica. È come se avessi i denti miei. È importante perché avevo bisogno di imparare a sorridere di nuovo perché io sto a contatto con le persone e quindi era necessario e utile per sentirmi nuovamente viva. Il ricordo delle persone con cui sono stata a contatto dalle ragazze che ci hanno accolto, la mia referente, delle persone splendide, premurose, i medici splendidi, bravissimi, precisi, professionali al massimo. Per me è dottor Palmas tutta la vita. Grazie.